Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventisesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando delle buone novelle che arrivano per la fondazione Blender. Epic Games, la famosa software house che ha creato Fortnite, come parte del suo programma Epic Mega Grants, ha deciso di premiare la fondazione Blender con una donazione di 1,2 milioni di dollari per favore lo sviluppo di Blender. Ma le buone notizie non si fermano qui perché qualche giorno dopo è stato dato un altro annuncio. Ubisoft, la famosa software house che si occupa dello sviluppo di videogiochi, ha deciso che aderirà al fondo di sviluppo della fondazione Blender come membro gold. Ubisoft contribuirà non solo a finanziare Blender, ma ha anche deciso che Ubisoft Animation Studio, un suo dipartimento che si occupa di film e televisione, utilizzerà Blender per le proprie produzioni e contribuirà allo stesso tempo allo sviluppo di Blender fornendo degli sviluppatori. Quindi ottime notizie per Blender che si vede arrivare risorse fresche sia in termini economici che in termini di forza lavoro e che di sicuro faranno migliorare ancora di più questo software che è apprezzato, come potete vedere, sia da noi utenti domestici che dagli utenti professionali. Passiamo alle notizie riguardanti i rilasci della settimana, che poi non è il rilascio di questa settimana perché era stato rilasciato già qualche giorno fa, però non ho postato subito la notizia perché me ne ero completamente dimenticato. Poi riascoltando un messaggio di Riccardo Palombo mi sono ricordato che dovevo postare questa notizia. Vi ricordate di Antergos, quella derivata di Arc Linux facile da instagare? Come ben saprete il sviluppo si è interrotto perché i sviluppatori non hanno più tempo a dedicare allo sviluppo della distra. Alcune persone, alcuni utenti però non hanno gradito questo abbandono e hanno deciso di rimboccarsi le maniche e forcare il progetto. Io mi domando dove stavano questi sviluppatori prima della chiusura di Antergos? Avrebbero potuto, secondo me, contribuire a mantenere vivo Antergos? Tant'è, comunque. Che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di dare vita a un nuovo progetto, questo nuovo progetto si chiama Endeavor OS, non so come cacchio si pronuncia, Endeavor, vabbè, andate per raggiungere, poi non dite che faccio schifo con la pronuncia, anche perché sono troppo R, quindi mi sto cartocciando, dicevamo Endeavor OS, anche in questo caso si tratta di una derivata di Arc Linux con un installer grafico, attualmente la prima live è basata su XFCE con una serie di personalizzazioni che sparsano dal tema grafico a una serie di applicativi preinstallati e quant'altro. Tramite l'installer online potremo poi scegliere quale ambiente desktop installare, fra Openbox, MATICS, XFCE, Cinnamon, Gnome, D-Pin, Bagi e KDA, quindi a noi la scelta. Si professano molto attenti alla community, tutti gli utenti sono invitati a iscriversi sul forum e a postare domande, il team di Endeavor OS dice non c'è domanda stupida, quindi non sentitevi liberi di postare quel che vi pare, qualsiasi domanda che vi viene in mente. I presupposti sembrano buoni, vedremo quanto tempo durerà questa distribuzione. In settimana poi ho deciso di riprovare Fedora, non so perché onestamente, mi sono subito imbattuto in due problemi con Fedora, da qui sono nati due articoli, due guide su come risolvere questi due problemi, però il problema riguardava Nextcloud, il client di Nextcloud, perché io utilizzo Nextcloud, meglio utilizzo una soluzione O-Sync, magari in uno di questi giorni vi faccio un articolo al riguardo, il problema è che se andiamo a installare il cloud in Nextcloud non funziona, andrò in avvio del sistema o meglio, ci verrà chiesto di inserire nuovamente le credenziali di accesso per il nostro cloud, è una cosa molto fastidiosa perché oltre ad inserire un utente password, dobbiamo mettere anche quella password, quella lunghissima dell'autentificazione a due fattori, insomma la chiave di autentificazione che è una cosa lunghissima e quindi è fastidioso questo bug. Questo bug si origina perché manca il pacchetto libgnome kring, è un pacchetto che è stato deprecato e quindi non è stato aggiunto ai repository di Fedora, delle ultime due versioni di Fedora, però comunque è ancora richiesto da alcune applicazioni, il problema è che se non c'è questo pacchetto si verifica questo bug che ogni avvio ci viene chiesto di inserire le credenziali. Risolvere questo problema è facilissimo, basta installare questo pacchetto che è comunque presente all'interno dei repository di Fedora e quindi una volta fatto installiamo questo pacchetto, riavviamo il sistema, rimettiamo i dati di accesso in xCloud e riavviamo nuovamente e il successivo riavvio non ci verrà più chiesto di inserire le nostre credenziali. Altro problema che ho riscontrato con Fedora riguarda Chrome. Dalla versione 73 di Chrome, se un programma sul nostro sistema è impostato criteri azientali che influiscono sul funzionamento di Chrome, vedremo prendere un messaggio che dice gestito dalla tua organizzazione. Uno lo legge all'interno di Chrome e dice che cacchio è successo. Questo dipende perché si origina questo problema su Fedora, perché su Fedora è presente un pacchetto chiamato Fedora Chromium Config che viene preinstallato al team di Fedora e serve ad aggiungere una configurazione per Chrome per poter avere supporto ai servizi di login, dei servizi web di Fedora come Pagur e Bodhi e se aggiungiamo per esempio un account Kerberos di FedoraProject.org in nome online, quindi serve ad avere tutta la pappa già preparata. Se però non siamo interessati e non avete capito nulla di quello che ho detto, quindi non siete interessati a queste funzionalità e volete rimuovere quel messaggio che mette un po' ansia, vi basterà dare sudo dnfremove FedoraChromiumConfig, quindi una volta rimosso questo pacchetto riavviate Chrome e sparirà quel messaggio. Fra l'altro vi sparisce anche l'iconcina delle estensioni di Chrome di Fedora che viene preinstallata quando installate Chrome su Fedora. Ultima notizia della settimana, che non è una notizia, è una riflessione, che state ancora commentando, quindi continuate a commentare, mi piace il dibattito che si è fatto, si è originato. Ho fatto un piccolo editoriale del titolo, non sarà il caso di smettere di usare le LTS di Ubuntu, perché ho fatto questo articolo, anche perché ho fatto le stesse conclusioni di alcune. Il mio amico Stefano mi è voluto al momento di condividere con voi questo articolo, di questa riflessione. È successo che un utente ha segnalato un problema in Fedora, cioè scusate, in VLC, questo problema con VLC, questa vulnerabilità critica è stata inizialmente attribuita a VLC, i team dove VLC ha confermato che era presente questo problema, ma approfondendo la vicenda è emerso che non riguarda VLC, bensì una libreria di terze parti utilizzata da VLC, che è LibEBML. Questa libreria è stata fissata ben 16 mesi fa e VLC sin dalla versione 3.03 viene rilasciato con la versione corretta di questa libreria e quindi fin da tale versione è immune a questa vulnerabilità. Dove nasce il problema? Nasce il problema che oltre al giornalismo di stampo allermistico di chi ha riportato la notizia titolando e disinstallate VLC, catastrofe, tragedia e quant'altro, è emerso che chi ha segnalato questa vulnerabilità utilizzava Ubuntu 18.04 LTS, che aveva la versione vecchia della libreria, che non era stata mai aggiornata e quindi non era stata fatta la segnalazione su questa libreria, non era mai stata aggiornata e quindi Ubuntu è stato esposto a questa vulnerabilità per un sacco di tempo. I pacchetti attualmente presenti su Ubuntu 18.04 LTS provengono dalla della vecchia versione di Debian che questa versione di Debian, Debian Stretch, ha avuto questo problema di questo pacchetto perché non è mai stata segnalata questa vulnerabilità, non è mai stata fatta la correzione, ma non è stata mai aggiornata questo pacchetto perché la natura LTS, la natura di Debian, sapete bene che fanno un congelamento della versione dei pacchetti, mantengono quelli, si fanno i backport di correzioni, però ovviamente è un lavoro molto difficile fare i backport delle correzioni e quant'altro e quindi si è trovato, ci si è trovati con questa vulnerabilità che è scoperta via del pacchetto che non è aggiornato. Il problema nasce quindi dal fatto che le LTS e le Debian non sono aggiornate a mio avviso e nessuno all'interno del team di Ubuntu, del team di Debian ha mai provveduto ad aggiornare questo pacchetto e è venuta quindi questa piccola osservazione che mi ha assenso ancora per noi utenti desktop, trascendo gli utenti aziendali che come è emerso anche dalla discussione, si affidano alle LTS proprio per non avere problemi di reinstallazione, problemi di regressione e quant'altro, quindi preferiscono avere una base più stabile, più conosciuta e quindi evitare di rifare reinstallazioni soprattutto quando si trova di fronte a fare molte macchine, ma per noi utenti casalinghi, per noi utenti desktop, senza ancora continuare a stare sulle LTS o non è meglio tornare a fare l'upgrade semestrale come molti di noi facevano in passato? Io questa domanda me la sono fatta e effettivamente ci sto pensando anche perché per poter avere le ultime novità non solo quanto riguarda il nome e quant'altro, ma anche per poter avere pacchetti aggiornati e non stare sempre lì a dover mettere repositori aggiuntivi, PPA esterni per poter aggiornare il pacchetto X o il pacchetto Y. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa osservazione, ci sono tanti commenti che sono stati fatti sul blog, quindi commentate, commentate, commentate. Bene, con questa notizia ho concluso, gunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!